lampeggia? perfetto, tutto aperto abbassati la sella quando siamo su, così vai più agile ehi che cacchia Polanieda con Salvatore si va verso la discesa allento un po' perché siamo un po' in salita adesso anche se hanno spianato tutto benissimo devo dire ragazzi molto molto bravi complimenti come al solito si potrà apprezzare che tutta questa parte è stata allargata ripulita da pietre e quant'altro da foglie tutto è proprio una bellissima passeggiata e adesso inizierà la discesa salvo ci sei? allento un po' dimmi quando ci sei ci sei? ok abbassa la sella e ai go questo tutto spianato prima c'erano soldi ovunque ma adesso è stato tutto ripulito incredibile ma anche troppo veloce guarda occhio sale scendi la traccia lasciata a primo guarda ho sbagliato strada e qua si va vada buba curva stretta andiamo a andare un po' qui la sponda andiamo a prendere la sponda un po' calmo qui qua hanno spondato tutto una volta un figo qua la sponda c'è sempre stata ma è ancora più figa qua si va vada buba un salvo c'è lo sento un piccolo trato da pedalare qua mi tengo largo avevo deciso di passare nella parte no non è ancora qua qua rimango dentro socco qua ne esco qua parte un po' sporca qua si arriva al rossetto dove bisogna fermarsi un po' salvo c'è salvo c'è qua si va albero aia quell'albero è un pelo pericoloso qui droppino e questo non hai bisogna tirarsi troppo ok penso ci sia ancora salvo ci sei? si occhio qua va la buba si corre la mettiamo prima del droppido e occhio che non freni eh ok occhio qua che è scivoloso ok qua ne arrivati salvo c'è ultima parte non mi ricordo mai come la devo prendere è largo vado vado qua e giro e un po' scivoloso qua un po' scivoloso qua arrivati arrivati salvo c'è adesso dislancio provo a farmi il salitone eh dislancio vado vado dislancio eh merda fermo qui che avevo la più dura e come facevo era impossibile in caso veura bene vado ore varia eh che